Buonasera, mi chiamo Damiano Bonacchi e vi presento Clovot. L'industria della produzione di abbigliamento ha il problema di abbattere i costi di produzione e cerca di risolvere andando a comprimere il costo della manodopera e quindi delocalizza nei paesi del terzo mondo. Questo perché ancora oggi l'industria della produzione di abbigliamento ha la necessità di avere tantissimi operai. Pensate che per produrre 10.000 t-shirt in 24 ore abbiamo bisogno di 400 operai. E questo sta diventando sempre più un problema per le multinazionali che si occupano di abbigliamento perché vengono sempre più spesso coinvolte in casi di sfruttamento della manodopera e talvolta anche in sfruttamento della manodopera minorile. I nostri robot invece producono t-shirt senza il supporto della manodopera, in totale autonomia. Uno dei nostri robot produce 10.000 t-shirt in 24 ore senza supporto della manodopera alcuna. Questa è una proiezione del costo della manodopera in diversi paesi del mondo su base annua. In Bangladesh 400 operai su base annua costano ad un fabbricante 720.000 euro all'anno. Il Bangladesh è il paese al mondo dove il costo della manodopera è il più basso in assoluto. La Cina invece, che è il più grande produttore ed esportatore di abbigliamento del mondo, in Cina 400 operai su base annua costano 4,3 milioni di euro. Negli Stati Uniti e in Europa, dove si presume che il lavoro abbia raggiunto delle tutele accettabili, 400 operai su base annua costano 20 milioni di euro. Uno dei nostri robot costa un milione e mezzo, il top di gamma. Mentre invece la versione ridotta costa 650.000 euro, una tantum. Quindi diventiamo competitivi anche nei confronti dei paesi del terzo mondo. Quindi tutti quei produttori di abbigliamento che andranno ad acquistare i nostri robot andranno a risparmiare il 40% sul costo del capo finito perché andranno a risparmiare il 90% sul costo della manodopera. E questo è il T-Bot. Come funziona? Si prende un rotolo di stoffa, quello che in gergo viene chiamato una pezza di stoffa, si carica su un loader e la macchina acchiappa il tessuto e tutte le stazioni performano il lavoro classico dell'assemblamento di un capo di abbigliamento, in questo caso una t-shirt. Quindi dal tessuto si passa al taglio, al cucito, allo stiro, fino alla fine della catena ad ottenere un capo confezionato e pronto per essere spedito in scatolato. Questo è il nostro T-Bot in azione nella nostra fabbrica di Milano. Noi abbiamo costruito con un pre-seed funding da 60.000 euro il cuore di questa macchina, la parte più importante, cioè la macchina, l'assembly robot, che assembla i quattro pezzi che costituiscono una t-shirt. E io adesso ve lo mostro in anteprima assoluta perché fino ad ora l'abbiamo mostrato solo ai clienti, mentre invece adesso per la prima volta lo mostriamo al pubblico. Se parte il video, ecco. Il T-Bot acchiappa il fronte della maglietta, fa alcune lavorazioni e dopo riaccoppia il davanti con il dietro. Poi acchiappa una manica, fa alcune lavorazioni, la chiude su se stessa e la ricolloca sul corpo. Dopodiché prende l'altra manica, fa la stessa lavorazione, la chiude su se stessa, la riapplica e le dime si aprono. Ed ecco che magicamente la t-shirt è ricomposta. E questa è la prima volta nella storia che un capo d'abbigliamento viene assemblato da una macchina e non da un essere umano. Quanto vale questo mercato? Il mercato della t-shirt vale 15 miliardi di dollari a livello globale. Quindi significa che, facendo un calcolo molto rapido, per coprire il mercato abbiamo bisogno di 3.750 T-Bots che al prezzo di rivendita di un milione e mezzo fa un fatturato potenziale di 5,6 miliardi. Grazie.